Come ti chiami? Gibin Giada Quanti anni hai? 44 Cosa fai nella vita? Io faccio l'STista Da quanto tempo segui questa attività di circo? Porti le tue figlie a fare questa attività? Da due anni E segui anche degli spettacoli? Vado a vedere degli spettacoli di circo? Ti piacciono? Mi piacciono ma non riesco a seguirli Perché sono di tempo E le attività che preferisci In questa attività che svolgono le tue figlie Gli attrezzi che preferisci? Mi piacciono tanti tessuti E... Le tue figlie Quando sono coinvolte Come si sentono? Gli piace? Sono soddisfatte? Sono molto soddisfatte E sono contenta di venire Assolutamente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti